Un attraviso a lutto si prepara per i funerali di Gilberto Benetton che si svolgeranno in Duomo domani mattina alle 11. A celebrare il rito funebre donna Adelino Bortoluzzi, negli ultimi anni diventato un punto di riferimento spirituale per l'imprenditore. Io l'ho incontrato grazie alla figlia Barbara che frequentava la mia parrocchia. Un imprenditore ma soprattutto un uomo che con i fratelli, orfano a 14 anni, aveva trovato nell'oratorio di Santa Bona i valori che l'hanno fatto crescere e con lui tante altre famiglie in quel fenomeno imprenditoriale che sono stati i maglioni Benetton. Una galassia che oggi conta 70.000 tra collaboratori dipendenti e che grazie alle intuizioni di chi teneva i conti tra i quattro fratelli ha saputo anticipare i tempi nella diversificazione di investimento, diventando uno dei gruppi più solidi d'Europa e del mondo. Pirelli, Mediobanca, Telecom, Autogrill, Autostrade, tutto il mondo finanziario Benetton faceva capo a lui. Per questo domani a Treviso sarà gremita di volti famosi e personaggi importanti di tutti i generi. A teso Briatore e Marco Tronchetti Provera, ma soprattutto il suo mondo sportivo, dal basket al volley che ha voluto far crescere al Palaverde. Sarà però un funerale blindato. Alcune reazioni violenti arrivate sui social nella sera della scomparsa hanno indotto la famiglia ad organizzare un rigido servizio d'ordine. Telecamere e giornalisti saranno tenuti a distanza da un uomo che non conterrà la folla prevista per l'ultimo saluto. Per questo la piazza sarà transennata e traffico deviato. Abbiamo predisposto due tipi di provvedimento. Un provvedimento dove è stata disposta il divieto di sosta in piazza Duomo per poter garantire a tutti i partecipanti, non a tutti chiaramente perché non ci staranno, i partecipanti alle esequie, la possibilità di parcheggiare essenzialmente le autorità, che presumiamo saranno molteplici e numerose. Per quanto riguarda invece la viabilità ordinaria, l'area del piazza Duomo verrà chiusa dalle 8.45 del mattino fino a cessate esigenze, al fine appunto di garantire la sicurezza dei partecipanti.